Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. La cronaca in primo piano partendo da Catania, dove il titolare di una bar-ristorante è stato denunciato e sanzionato dalla polizia poiché aveva trasformato abusivamente il suo locale in una discoteca. Vediamo il servizio. Nel corso dei servizi finalizzati ad accertare il rispetto delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici e in particolare in materia di sicurezza e quiete pubblica, personale della divisione Pasi della Questura di Catania ha effettuato un controllo presso un bar-ristorante all'interno del porto della città etnea. Nella circostanza è stato accertato che il titolare aveva trasformato abusivamente l'esercizio pubblico in una discoteca. Difatti, gli operatori hanno trovato all'interno 300 persone intente a ballare. Conseguentemente gli è stato contestato l'illecito amministrativo per l'organizzazione di attività di discoteca senza alcuna autorizzazione con l'applicazione della prevista sanzione pecuniaria. Il titolare è stato deferito anche per l'apertura abusiva di un locale destinato all'attività di discoteca senza che la commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo avesse verificato la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare prontamente nel caso di incendio. Inoltre gli agenti operanti hanno trovato all'interno dello stesso locale un uomo che svolgeva il servizio di buttafuori senza essere però iscritto all'albo prefettizio. A quest'ultimo è stata applicata una sanzione pecuniaria di oltre 1.600 euro. Analoga sanzione è stata elevata nei confronti del titolare per averlo impiegato senza il previsto titolo. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Ragusa, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti con i carabinieri che hanno tratto in arresto un 17enne. Si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto di un 17enne ragusano trovato in possesso di un rilevante quantitativo di stupefacente. Nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga effettuato dalla sezione operativa della compagnia di Ragusa, i militari di pattuglia hanno notato il ragazzo, poiché già arrestato in passato, uscire da un edificio. Il giovane, riconosciuti i carabinieri, si è dato repentinamente alla fuga, decidendo poi di saltare un basso muro in pietra che delimitava il manto stradale da una discesa scoscesa, cadendo fino a raggiungere un terrazzamento. Alla luce del gesto, i carabinieri, al fine di tutelare l'incolumità del giovane, hanno deciso di desistere dall'inseguimento e richiedere l'intervento del 118. Il ragazzo, ravvedendosi della pericolosità dell'azione, ha quindi deciso autonomamente di risalire la discesa e avvicinarsi ai militari operanti che dopo averlo fatto medicare dai sanitari intervenuti sul posto, hanno proceduto ai controlli. Spostando gli accertamenti a casa del ragazzo, i carabinieri hanno rinvenuto nell'armadio della sua camera delle buste in cellofan contenenti un totale di circa 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e del materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente, nonché del denaro incontante e provento dell'attività di spaccio. Il 17enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha ristretto presso il centro di prima accoglienza di Catania, così come disposto dall'autorità giudiziaria. I carabinieri del NAS di Ragusa hanno effettuato dei controlli in diversi settori in questo periodo di festività. Sono tante le irregolarità riscontrate e ovviamente diverse le sanzioni elevate. L'attività di controllo eseguita dai carabinieri del NAS di Ragusa ha consentito di riscontrare numerose carenze e violazioni sia di carattere amministrativo che penale. In tale contesto, nel settore della ristorazione, assume particolare rilevanza l'attività ispettiva effettuata presso un noto ristorante dell'isola di Ortigia del comune di Siracusa, dove sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di alimenti in cattivo stato di conservazione, sprovvisti di etichettatura e pronti per finire nei piatti degli avventori. Altresì sono state riscontrate gravi carenze igieniche dei locali e la mancata applicazione delle procedure HACCP. L'intervento sul posto dei medici della locale Aspa ha definito il provvedimento di chiusura dell'esercizio. Ai titolari sono state contestate violazioni per diverse migliaia di euro. Presso una trattoria di gela sono state rilevate analoghe carenze igieniche e mancate procedure di autocontrollo sugli alimenti e nelle fasi di manipolazione e produzione, tanto che l'Asp di competenza ne ha predisposto la sospensione immediata. Sempre nello stesso centro, ispettori del NAS di Ragusa hanno sottoposto al vincolo del sequestro amministrativo più di 50 kg di prodotti ittici e di carne pronti per la somministrazione e detenuti in cattivo stato di conservazione. Non solo la ristorazione, oggetto di controlli e verifiche è stata anche la filiera degli oli di oliva particolarmente fiorente nei mesi autunnali. Presso un esercizio commerciale di vittoria, gli ispettori del NAS hanno rinvenuto e sottoposto al vincolo del sequestro più di 100 litri di olio extravergine posto in vendita sprovvisto di elementi utili alla tracciabilità. Il quantitativo poi è stato campionato e avviato alle analisi di laboratorio per accettarne la genuinità. Numerose sono state le verifiche eseguite in prossimità delle festività natalizie che hanno consentito di rinvenire nei negozi nella maggior parte orientali dislocati nelle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta migliaia di prodotti quali addobbi natalizi e luminarie sprovvisti di marcatura CE o di indicazioni e avvertenze sui rischi in lingua italiana pertanto potenzialmente dannosi per la pubblica salute. Sul comparto socio-assistenziale nelle città di Siracusa sono state scoperte diverse strutture ricettive per anziani prive dell'iscrizione all'albo comunale e disorganizzate al punto da offrire servizi ben al di sotto degli standard sanitari regionali. Le strutture in questione sono state destinatari dei relativi provvedimenti di chiusura o sospensione o di adattamento ai requisiti previsti dalla legge. Nel comune di Gela l'attività ispettiva eseguita presso una nota RSA locale ha consentito di accertare gravi carenze in materia organizzativa, funzionale e assistenziale offerta alla particolare tipologia d'utenza nonché problematiche in ordine alla prevenzione di incendi. È stata pertanto disposta la sospensione dell'attività o il ricollocamento degli ospiti in altre strutture. Significativa è l'operazione eseguita presso un'altra RSA del comune di Comiso dove alla luce di altrettante anomalie e difformità agli standard regionali è stata interessata la competente ASP che ha disposto il blocco dei ricoveri presso la struttura in esame e il ricollocamento dei pazienti presso altri reparti del presidio ospedaliero di Comiso. A San Cataldo, infine, una casa di riposo per anziani è stata sospesa poiché scoperta a operare in assenza dei titoli autorizzativi previsti carenze igienico-strutturali, ampliamento della capacità ricettiva e disfunzionalità in ordine agli standard regionali di assistenza. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ericino di 18 anni noto alle forze dell'ordine residente nel quartiere di San Giuliano. Gli uomini dell'arma, insospettiti dal via vai di gente da quella casa hanno deciso di intervenire con una perquisizione. All'esito del servizio sono stati rinvenuti nella disponibilità del 18enne circa 50 grammi di hashish, due di marijuana e un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dagli inquirenti che hanno arrestato il giovane, il quale, a seguito dell'udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ed ora una notizia da Palermo. Parliamo di un incidente stradale. I carabinieri di Palermo sono infatti a caccia di una pirata della strada. Due ragazze sono state investite in piazza indipendenza mentre stavano attraversando la strada regolarmente sulle strisce pedonali. L'auto che le ha accentrate in pieno però è fuggita via senza prestare soccorso alle due giovani, le quali sono state poi trasportate all'ospedale civico di Palermo dai sanitari del 118. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri, come detto, sono adesso alla ricerca del pirata della strada e stanno esaminando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Notizia di cronaca da Caltanissetta. Cambiamo ovviamente argomento. I poliziotti della sezione volanti nel corso di servizi di controllo del territorio hanno denunciato alla locale procura della Repubblica un 28enne per porto di armi o d'oggetti atti a offendere. L'uomo è stato sottoposto a un controllo dagli agenti mentre si trovava a bordo della propria autovettura insieme ad altre due persone. A seguito della perquisizione del mezzo all'interno di una borsa nascosta sotto il cambio dell'auto i poliziotti hanno sequestrato un coltello a serramanico pertanto, come detto, il 28enne è stato denunciato. Ed ora nell'agrigentino per la precisione a Favara per parlare di un furto commesso all'interno di una gioielleria ubicata in corso Vittorio Emanuele. Dopo essere entrati all'interno dell'esercizio commerciale forzando la saracinesca d'ingresso e disattivando l'allarme i malvimenti, una volta aperta la cassaforte l'hanno letteralmente svuotata portando via preziosi per oltre 50.000 euro. I carabinieri di Agrigento e Favara pertanto hanno avviato le indagini e stanno cercando di acquisire le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona con l'obiettivo ovviamente di risalire ai responsabili di questo furto. Ed ora invece ci spostiamo virtualmente a Catania dove a breve partiranno degli importanti lavori di riqualificazione e restyling di Piazza Santa Maria Ausilatrice. Siamo in zona Cibali, uno dei quartieri storici di Catania. Per tutti i dettagli sentiamo Lucio Di Mauro e i suoi ospiti. Ci troviamo in Piazza Santa Maria Ausilatrice zona Cibali a Catania. Giovanni Curia cura la parte ovviamente della zona quindi consigliere comunale della quarta municipalità. A breve inizieranno i lavori di restyling di questa piazza che ormai è un fulcro, un punto di riferimento per i tanti cittadini che vivono da questa parte. Quindi una bella occasione, comunque un bello obiettivo che Giovanni Curia e Bartolo Curia ovviamente consigliere comunale Bartolo Curia avete realizzato o realizzerete sicuramente questo importante polmone di questa zona. Giovanni. Sì, tanta soddisfazione perché a breve inizieranno questi lavori di ristrutturazione sarà riqualificata totalmente la piazza così verrà consegnata ai residenti del quartiere di Cibali e non solo considerato che c'è anche una parocchia frequentata anche da altri bambini che vengono di tutta la città. Cosa prevede questo inizio dei lavori? Ci sarà un arredo urbano totalmente con impianti di tecnologia come le panchine con fotovoltaico e peso USB quindi un arredo moderno ci saranno giochi naturalmente per bambini nuovi giochi ci sarà potenziata l'illuminazione che è molto carente e sicuramente è stato chiesto anche di installare delle telecamere di videosorveglianza sappiamo tutti come deterente per atti vandalici quindi siamo davvero felici che finalmente si è raggiunto l'obiettivo e finalmente sarà consegnata una piazza ai residenti del quartiere di Cibali e volevo anche aggiungere che questo auspico che i residenti rispettano quel senso civico facendo sua la piazza rispettandola a 360 gradi che dovrà durare nel tempo per non dire per tutta la vita tutto a costo zero per il comune perché questi finanziamenti circa i 350 mila euro diciamo di finanziamenti ecco derivano dalla comunità europea per cui ecco finalmente piazza Santa Maria Vosilettrice avrà una piazza completa di poter usufruire sia bambini che persone anziane e nello stesso tempo voglio dire persone che abbiano qui in zona avere un look diciamo non indifferente per questa zona per la zona di Cibali Innanzitutto mi sento il dovere di ringraziare il consigliere Curia per l'impegno che ha messo nella realizzazione di quello che verrà da qui a qualche mese e anche un ringraziamento alla passata amministrazione che ha contribuito in maniera significativa non solo su questo sito ma ben in 20 siti periferici della città a restituirli alla cittadinanza in una forma riqualificata e più attrattiva si tratta di interventi per l'inclusione sociale perché la realizzazione di questi siti servirà da punto di coesione per il quartiere Per il momento è tutto possiamo chiudere questa edizione di Spazio Notizia ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 Grazie a tutti